È passato un gatto nero davanti a quella porta e subito dopo un altro uguale. Quanto uguale? Lo stesso gatto? Forse. Quanto uguale? Questo non è reale. Che vuol dire reale? Dammi una definizione di reale. Se ti riferisci a quello che percepiamo, a quello che possiamo odorare, toccare e vedere, quel reale sono semplici segnali elettrici interpretati dal cervello. Credi sia aria quella che respiri ora? Grazie. Grazie a tutti.